Ok ragazzi, Bert è qui in questo nuovissimo video di Nicola Staccato a Giano, Staccato a Nicola, Staccato a Giano Siamo qui in questo nuovissimo vlog dove parlerò di tantissime cose Voi vi chiederete che cosa è un vlog, vabbè, un vlog, sapete che cosa è? Vi vorrei dire... che, aspettate Youtuber che mi stanno a cuore sono tutti, Youtube Italia Però, quelli particolari e quelli famosi Ci sono quelli particolari e quelli famosi Il primo è Ciccio Gamer, 89 Il primo no, in senso che è il primo secondo da Solo questi qua, che vi dico? Sono primi tutti, primi per me Vabbè, Ciccio Gamer, 89 Favij, Stepney, Surreal Power Poi un attimino che qui non si sto vedendo più Simone Pacello Poi vabbè, tutti quelli là Joker anche, sono bravi? Tutti, per me sono bravi Tutti Youtube Italia è brava Però, che ci chiediamo? Perché esiste Youtube? Perché esiste Youtube? Io vi porterò questa serie Lasciate tre mi piace A questi tre mi piace porterò un'altra serie Dove dirò chi ha inventato precisamente Youtube E quando, a che data di anno ha inventato Youtube Ok ragazzi Questa era la mia comunicazione E poi vi vorrei dire che Youtube è una bella invenzione Per fare, per strappare un sorriso alle persone che non lo possono avere Ma anche, per niente Però il brutto è che solo chi ha un telefono se lo può fare Pure chi ha lo smartphone a tablet Chi ha quelle cose Però io vi direi Perché non mettere uno schermo Dove vuoi tu? A tutti i supermercati E far vedere tutti i video che farebbero Vabbè, però che durerebbero tre minuti Non quelli di 20 di Stepney Che durerebbero tre minuti Tipo Happy Wheels con Fabi J Che è bravissimo Vabbè ragazzi Io direi che questo video può finire qua Che saluto di nuovo un mio amico Tizzi Gamer Che è un grande mio amico Visitate il suo, il suo, il suo, ma il suo, ma il suo, ma il suo Canale Canale È molto bravo Gli ha tipo 200 iscritti Non so quanti iscritti Va bene ragazzi E qui finisce il video Però io YouTube Lo prendo come uno sfocamento Per parlare con voi E mi libero Ok ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un bel mi piace Nicolo ha staccato a Giano Staccato a Nicolo Staccato a Giano Iscrivetevi al canale Lasciate un bel mi piace E ci vediamo Al prossimo video Al prossimo video Al prossimo video Al prossimo video